Quando si va alla scoperta di un tesoro nascosto Il tesoro? Quale tesoro? Vale milioni di dollari I previsti sono inevitabili Hai mai sentito parlare di un tesoro nascosto su quest'isola? No tesoro, c'hai vincito! Ma quando sono due amici a cercarlo Abbi fede Tutto diventa molto più semplice Con Bud Spencer e Terence Hill Per il ciclo Botte da ridere Chi trova un amico trova un tesoro Hai visto che succede a cercare tesori che non esistono? Sabato 21 e 20 Rete 4